che la fa no? della verdona chi manca? non avevo capito che quella è la puntana del castello arrivo a continuare il treno, il quattro il motore è bello e come fai a dirle a tutti che sei quello che lo vuoi è vero che è buona non c'è ferma andiamo là in fondo che ci succede un po' di nuova andiamo là in fondo che ci succede un po' di nuova non ci succede un po' di nuova Grazie a tutti.